Benvenuti in questo nuovo di GTA 5 e quest'oggi parkurito, bellito, matematica in mezzo Ci sono dei numeri, devi fare i calcoli e in base ai calcoli fai... Pretendi che io sappia fare i calcoli No, pretendi che io sappia fare i calcoli Un saluto alla propria matematica del superiore che ho sentito odiato Un saluto alla propria matematica Anche io li odiavo tutti, quindi un saluto a tutti i professori che li odiavo E purtroppo... Perché non mi portavano in gita e li stavamo insultando prima di iniziare questa rec Perché abbiamo notato che tipo al Romix vanno in gita scolastico Ma solo a me non mi portavano da nessuna parte, andavo solo in posti noiosi di cui non me ne fregava nulla Un saluto anche alla mia allergia che mi vuole fare del male Raga, dove si deve andare? Che ho visto un Marci tornare indietro da qui E va a sinistro Vabbè Ma dove sei andata? Ma stupida! Ma c'è il sabotatore o solo un... No no, è parkour troll, raga Cioè, non c'è bisogno di un sabotatore che non c'è il troll In quale siete andati, scusate? Eh, in quella che devi capire Marci è anche abbastanza scontato per essere un troll Dai ragazzi, su Marci non si passa in nessuna, io che devo fare Per favore Ma non si passa Io e Marci abbiamo compreso nello stesso momento Ma ma che causa la sole? Io non ci credo Io penso che sbatteremo anche qui signor champ Io adesso li buco tutti E invece no Ok dai, ma posso azzeccarlo first try uno? First try? Ma perché Marci non parla? Ma vuoi vedere che è mutato e non lo sa? Allora, allora, allora Era mutato Era mutato Allora, allora, fatemi spiegare Stavo starrutendo continuamente per colpare all'allergia Si vede in facecam E quindi a un certo punto mi sono dimenticato di smutarmi Eh Hai trovato Steph? Eh c'è una rampa Eh sì È andata Eh sì Bello comunque Un bel inizio Vero? Mi sto divertendo Anch'io Molto interessante Sì Molto interessante Dici che puoi fare questo Eh no, sembra che non ti faccia salire No, non puoi farla Eh ma qua ci sarà il muro Ecco E c'è Mi sto arrabbiando Io odio le cose troll C'è proprio in generale Dove si passa? Sono passata in tutti i lati Anche qui devo passare di lato La trova troppa Anche l'ultimo Ok Di lato, bene Quindi era qua Poi Ferre più rimani indietro Peggio è È lì, è lì, è lì Eh sì Lo so Steph ma mi sto incastrando Quindi non mi dire cosa devo fare Non ti dico cosa devi fare Ferre È il mondo che te lo dice Il prossimo cos'è raga è facile Oddio C'è una rampona Zoom Ok, fatto Ora Perché c'è tipo 10, 50, 100 Non ci sta aspettando ragazzo No Qual è in questo? Sto cercando di comprendere un attimo È l'ultimo Marco l'altro? No, devi salirci sopra In una random? Sì, in una No, in quello più laterale possibile Attaccato al muro Che scemo raga Aspetta passo sopra Ho capito, ho capito Ho capito Ho trovato il modo di cittare Sì Guarda qua, guarda se vuoi No, passo qui sopra Non si può salire sopra Ho svegliato Che sfiga però eh Sto cadendo La sfiga è nata assieme a me E da lì in poi Ha colpito l'umanità No, Stef è magnifico No, ebbè Ebbè, così non si può eh E così non si può No, è mo' Ah, puoi dirmi che devo farlo in retro? Aiuto, cos'è sta roba? Ragazzi, sto veicolo non regge la salita però È finita Ah, ma devi farlo veloce mi sa Stef No, non si può Ma stiamo prendendo checkpoint? Secondo me no No, Fede Quello è il problema Stiamo rifacendo tutto Io sto per urlare delle parole in sumero No, Stefano, no No Raga, sono caduta Non ho capito che dovrei fare No, tutto mi devo rifare? Sì Io sono sull'azzurro adesso Cioè, dite che è così Se cado, urlo Dite che è così Ok Sì, si fa così E come faccio? Marci è stato perfetto, raga Raga, non dobbiamo fare il 10, scusatemi No, raga, sto caduta Perché il 10? Non capisco Perché il più basso No? No, perché alla fine dentro ogni tubo ti rallenta È l'azzurro, Marco Perché l'azzurro? L'azzurro non rallenta No, ma raga, io sono entrato in tutti eh Cioè, io, perché stai prendendo poca rincorsa Però, ogni tubo ti rallenta Forse ho capito No, io pensavo che in realtà tipo si debba salire sopra Posso andare? Cioè, non... No, ma raga, ma... Non ci riesco Eh, no, ho pensato che si potrebbe fare un'elettromarcia, ma... Eh, ho già provato Sì, sì, no! Ah, eh... I? Omae wa muu shindeiru Non sto capendo No, davvero, ma davvero, dai Ma non fa ridere se lo fai così Come lo faccio io, Marco? Non è troll, non fa ridere No, nè Sì, guarda, se io vado lì in fondo direttamente Guarda Io, se ci arrivo, son perfetto Devo solo prendere un po' più di rincorso No, io... Ah, ma tu vuoi saltare direttamente di là? E certo, secondo me hai fatto apposta Ma no, ma cos'è eccitarla, Marci? Sì Anche secondo me è eccitarla Non è quella la risposta Ma il 100 l'avete controllato bene? Io non lo so fare Sì, anche il 100 slow Ma no, raga, ho il metodo Ho il metodo, raga Guardate, guardate, guardate Allora, fai così Salti sul bianco E provi a star sopra Se stai sopra di la slowness Ma sopra ti puoi girare per metterti il retro Quindi non avresti la slow Allora Allora Ma era difficile fare la retromarcia così, raga Stai su? Ok Raga, ma comunque io nell'azzurro prima ce l'ho riuscito a cadere dritto Aspetta Guarda Stef, vieni da me nell'azzurro un secondo No, one sec che forse ce la faccio così, lo sai? Ok Stef, è il tuo da fare come ti ho detto io Sì, io ho finito ragazzi Vedi? Bravi! Vedi The Mark, vedi? Porca di quella, porca però Che casino Che casino E non so se è eccitato Siamo andati sul primissimo E fai retromarcia sul primo Se riesci a farlo vuol dire che va bene Quindi è il primo in retromarcia Orca di quella Secondo me è così Se riesci a farlo va bene Tanto è troll Non è che ci sia un modo giusto oppure no No Marci, ma ascolti? Eh non ho capito Devi andare di qua sul bianco e saltare sopra il tubo giallo Sopra proprio il tubo giallo Poi Devi fare la rampa bianca Lo so anche io Fatti io Vedi? No No Ogni volta rotolo Devi prendere così E andare sul tubo giallo Fermi tutti Forse ce l'ho fatta La cosa giusta era l'azzurro che era l'unico sento slow eh raga Mi stanno esplodendo io Ci aveva lo slow anche l'azzurro Nooo non ce l'ha lo slow in fondo Raga non litigate Non ha la scritta ma ce l'ha lo stesso Ma non è vero guarda sono qui Io sto morendo Nel frattempo Non ho capito nulla di quello che avete detto Ecco l'ho fatto legit raga Era azzurro andare piano dritto Da vero? Eh si Io adesso seguo Marci raga Mi state consigliando cosa sia Scusa Marci Nooo Steph dopo cosa bisogna fare? Eh guarda Ok troppo piano Ho tirato Alla fine l'avete citato voi e non Marci e l'avete accusato in giocamento Io ho citato Mentalmente ho detto cose brutte Ah è difficile Molto brutte Come cavolo Ah si passo di qua ok Di qua Eh avevo troppo di lato mannaggia Sta roba E chill Più rincorse No ragazzi Ok capito Non fatti mai più fare una cosa del genere ve lo dico No tranquilla Fere Cioè Centro sotto centrosopra Non lo so Eh Aspetta che lo provi per primo No no Centrosotto centrosotto E l'ultimo invece? E l'ultimo è normale Ok centrosotto centrosotto E io ho preso il blu ma sono caduta Ma Marco Marco cosa stai facendo? Cosa sto facendo? Sei un clown sei Ma cosa ho fatto? Ma mi affianchi mentre stiamo facendo una rampa nel genere Eh ma si può fare Eh vabbò Ma io cosa devo fare una volta che sono dentro il tubo? Perché se vado avanti cado Fatto Eh con la velocità della scia facile Ma che dici Ma perché mi hai ridato qua? Ah ovvia Brutto Brutto Perché mi ha fatto rifare però Stef? Ma Marci come ha fatto a fare sta roba ragazzi scusate Non lo so Me l'ha fatto rifare Eh champ guarda bene Cioè io vado nel celeste ma non si può andare Ho solo questo da dirti c'è Capisci? No No Osserva 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 il checkpoint Ma raga mi avete mollato qui con una strada sbagliata Eh beh io ti ho detto fai la mia tecnica nel caso Che vuol dire? Si ma io se prendo l'azzurro cado giù non c'è nessuna strada Oh che vuol dire? Faccio il tubo e si cade Non so come sei riuscito Guarda il checkpoint E' concluso la gara Questo silenzio Beh non ho capito Io sto arrivando Stef sto arrivando e l'ho capito Marci l'hai capito? Certo Ok Dai io Ah bisogna continuare No guardami No non ti guardo Ferri li vengono lentissima Non devi andarci a sbattere Ma cado non ci faccio nulla Beh ma Super slow azzeccare la velocità giusta per cadere dentro Invece che sbattere Ma perché raga che stuprolla Hai visto champ? Inspiegabile Lo so Lo so Ragazzi è stato terrificante No è molto bello Non mi sono divertita neanche per un secondo Neanche un secondo E speravo di morire ogni minuto di questa macchina Io però voglio Io però ho in questo momento in testa solo una cosa Qua vedo un Mark versus Marci Pesante Che non vedevamo da tanto tempo Pesante E che non è per niente scontato perché Perché non ho preso Non ho preso l'altro check Non l'avevi preso altro check Io come sempre Sti parco non ci capisco nulla Non fanno per me Conclusione 0 Ciao 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 a tutti Bella raga Si vola 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 Si vola